In Emilia Romagna il reddito di solidarietà è una realtà. È stato infatti definitivamente approvato ieri presso il Consiglio regionale il provvedimento che prevede un aiuto economico della durata massima di un anno rivolto alle fasci di reddito più povere come misura di contrasto alla povertà. Da domani quindi i cittadini della nostra regione potranno ricorrere a questo nuovo strumento di contrasto alla povertà, potranno ricevere, se avranno un reddito inferiore o uguale a 3.000 euro ISEE, da 80 a 400 euro mensili e crediamo sia un primo concreto intervento verso un settore della società che hanno subito molto in questi anni di crisi. Occorre creare per loro le condizioni economiche e lavorative per poter uscire da un stato di crisi. Questa regione come in Italia subisce questo danno e noi abbiamo pensato di farcene carico nella nostra quota parte, nella nostra regione, con un bilancio che non taglia nulla ai servizi ma dà una possibilità a chi è più in difficoltà. I voti contrari sono arrivati dalle opposizioni che vedono il provvedimento come una misura volta a favorire esclusivamente le famiglie straniere presenti nel territorio. Uno strumento che potrebbe essere utile per superare situazioni momentanee di difficoltà ma che non deve divenire invece un appoggio definitivo per chi momentaneamente escluda il mondo del lavoro deve invece ambire a un reinserimento funzionale alla piena capacità, sia reddituale ma anche di persona. A questo aggiungiamo il fatto che vediamo uno sbilanciamento che a nostro modo di vedere premerà in maniera inevitabile soprattutto i nuclei di immigrati quando questo era uno strumento da riservare solo agli italiani.